Siamo finalmente in aula per parlare di acqua. Sono tre mesi che chiediamo all'Aggiunto di portare questa proposta di legge in consiglio. Siamo stati inascoltati, poi le ferie, poi un'altra cosa, poi non mi va di lavorare e oggi finalmente siamo qui. Mi raccomando seguiteci, andate su www.consiglio.regioni.lazio.it, troverete un link che è scritto diretta aula. Seguite i lavori di quest'aula perché un tema importante è quello dell'acqua che riguarda tutti noi. Seguite questa importante discussione. Grazie a tutti.